Una situazione di stasi nel circolo PD di Vallo della Lucania, a dichiararlo il componente della direzione provinciale, Maurizio Puglisi, che ricostruisce le vicende del partito in questi ultimi anni. Nel PD di Vallo della Lucania si vive una situazione di stasi, perché in effetti è da tempo che non abbiamo il coordinatore, da come si è messo Gennaro Cardone. Per cui i reggenti sono Delfia Di Sevo e Antonio Bruno, che in qualità di vicisegretari reggono il partito in attesa delle elezioni. La prima anomalia sta nel fatto che non si riesce a convocare una data per le elezioni, per dare una normalità alle attività politiche del circolo di Vallo della Lucania. Ma perché non si riesce a convocare una data? Sicuramente ci sono dei motivi non molto trasparenti, perché alla fine non si riesce a capire il perché non si rinnovino le cariche, si convoca l'assemblea, si capisca quale assemblea deve reggere il nuovo segretario. Però diciamo che sempre frutta e figlia di una situazione che ormai dura da cinque anni, le sa che pure io sono stato il primo segretario del circolo PD di Vallo della Lucania, e si è vissuto sin da tempo la difficoltà a far agire, a far crescere un partito autonomo dalle correnti e dai titolari delle correnti. Perché lei sa che il PD ha vissuto la sua crisi nel fatto che invece di costruire un nuovo partito, invece di costruire un partito nuovo, si è realizzato un nuovo partito. Con tutte le negatività del nuovo partito, cioè del correntismo. E fino a questo punto, fino all'avvento della novità che ha rappresentato Renzi, e che noi come incidente democratico, fin dall'inizio siamo renziani dalla prima ora, quando tutti erano contro, abbiamo intravisto lontano, visto lontano nel percorso politico, e questo vedere lontano ci ha dato ragione alla lunga. Adesso tutti sono sul carro del vincitore, però quando noi abbiamo sposato insieme a Raffaele Pilaerci, insieme agli amici di Centro Democratico, in controtendenza quasi con tutto il partito, con tutta la leadership del partito, alla fine abbiamo avuto ragione su un punto saliente, perché era quello che bisognava andare oltre le correnti. E in questo a livello nazionale ci siamo riusciti. A livello locale ancora viviamo la poca democraticità di far funzionare un partito in base alle idee, in base al confronto, e non in base al correntismo o alla legittimità di alcuni di pensare di essere ancora i padroni del partito in un'area come quella cilentana. C'è più che altro una scessione, possiamo quasi dire, drastica del partito, che un poco deriva dalle amministrative a livello della locania. Ma anche lì si tende a non fare chiarezza. I fatti sono fatti e la storia poi rappresenta la realtà di quello che sono. All'epoca io ero segretario del partito, quindi ho vissuto quella fase molto conflittuale. Ho cominciato ad essere segretario del partito democratico quando sia Cobellis che Valiante erano ai vertici del partito democratico. Poi nello scontro personale tra questi due leader si sono creati dei grossi problemi all'interno del partito. Si sa benissimo che Cobellis è uscito dal partito democratico, aderendo all'Udc, e da qui sono cominciate ad esserci dei problemi politici personali che hanno influenzato la vita del partito e la vita politica a Vallo della Lucania. In questo contesto noi ci siamo trovati nell'impossibilità di fare una lista avallata dai vertici, anche locali, autonoma del PD. Per quando si diceva che si voleva intraprendere questa strada, nei fatti non c'era la possibilità di fare questa cosa. Per cui come partito abbiamo intrapreso un cammino difficile, che era quello di decidere in questi due contenitori civici dove collocare il partito. In maniera molto democratica, prima nel direttivo e poi in maniera bulgara nell'Assemblea. Ricordo che i partecipanti all'Assemblea dell'epoca erano 110, su 110 quasi 104 hanno votato per appoggiare la lista di Romaniello, che aveva una forte connotazione di centrosinistra, mentre la restante parte, cioè la parte perdente, che erano rappresentate da 4 o 5 persone, per questo parlo di maggioranza bulgara, non hanno seguito in maniera democratica, come dovrebbe essere in un partito democratico, la linea della maggioranza. Per cui è un po' inesatto quello che dice lei. Cioè il Partito Democratico, il suo segretario e con Antone Bruno, membro del direttivo del partito locale, e col simbolo del partito hanno aderito politicamente, non personalmente, alla lista di Romaniello. Altri, e nello specifico Simone Valiante, non ha seguito questa linea, secondo me non per un problema politico, ma era una contrapposizione ai cobelli, si è appoggiata una lista palesamente di destra, tanto è vero che quando questa lista ha vinto, sul palco, lei potrà ricordare, c'era da Gambino a Cirielli a Feola, e non certo Simone Valiante, era presente ma girava attorno al palco, insomma non era protagonista in quella cosa. Anche lì si è detto che invece il partito, erano due liste civiche, eccetera, eccetera, i fatti ci danno ragione, la lista è di chiara connotazione di centrodestra, ma diciamo più di destra, Fratelli d'Italia e il sindaco è un dichiarato di destra, di centrodestra, Ametrano che è il vice sindaco e ha molta rilevanza nell'amministrazione sia come consensi, che sia come incisività, il tempo ha dato ragione a noi, e il tempo ha tanto dato ragione a noi, che quella componente di partito democratico di sinistra, che doveva essere in questa coalizione, non ha avuto conto, non ha avuto parola, non ha avuto, anzi è stata estromessa, si è fatta ancora chiarezza, perché Simone Valiante accreditava a sé tra i quattro consiglieri del partito democratico, sempre in un'equivocità di fondo, nel senso non si capiva perché poi non si costituisse il gruppo del partito democratico, alla fine dei conti si è capito che il solo, aderente al partito democratico e presente in amministrazione, è il cognato di Simone Valiante, cioè Attilio Moninaro, e quindi proprio si è avuto questa rottura con Pietro Miraldi, ma ricordiamo che Pietro Miraldi non è mai stato del PD, si è scritto ultimamente al PD, ricordiamo i rapporti di Tonaloia con la famiglia Miraldi, cioè Pietro Miraldi è un candidato diretta espressione di Tonaloia, cioè non del partito democratico, e quindi si è instaurata una situazione caffeggiana, che è implosa questa situazione, invece di fare autocritica, di convocare l'assemblea, di capire e di non avere ragione, perché non è che io sono stato un segretario che non solo si è dimesso per sanare le colpe altrui, ma ho cercato di unire le fazioni del partito, di unire questi due blocchi. La nostra idea politica di Cilento Democratica non è mai stata contro qualcuno, ma è stata per costruire qualcosa. Gennaro Cardone era proprio la sintesi di questo accordo che io insieme ai miei amici abbiamo voluto all'epoca per superare questa fase. Purtroppo Gennaro Cardone, proprio per l'assenza della parte indicata da Simone Valiante, è stato costretto a dimettersi. Ecco, quindi veniamo ad ora. Si convoca un'assemblea degli iscritti per parlare del, se non mi sbaglio, il primo punto all'ordine del giorno era la situazione amministrativa e poi, diciamo, un poco la preparazione al congresso, quindi per dare anche una prevalenza un poco a quello che era un punto di chiarezza nell'ambito del PD. Qui è una situazione da premettere a quello che dirò adesso è che io sono disponibile a qualsiasi tipo di confronto, cioè con le persone che cito, per fare chiarezza su questa argomentazione, anche se va da sé nei fatti che la situazione è molto, molto, direi, tra virgolette, ridicola perché abbiamo due reggenti che dovrebbero organizzare la fase nuova del partito che non si occupano attivamente della situazione ma fanno muovere Riccardo Ruocco che è un componente del direttivo, forse un papabile per l'eventuale candidatura a segretario cittadino che già si muove come segretario cittadino e un po' superando le assemblee, superando il direttivo che ricordo non è il partito commissariato, esiste sempre il direttivo. Per cui nonostante noi con Dino Ruocco avevamo cercato di avere di nuovo un accordo, quindi avevamo raggiunto su Dino Ruocco e che era anche espressione diciamo di valeante di fare un accordo per unire la linea politica per andare oltre a quella fase. Anche quell'accordo non è saltato per colpa nostra perché la sera avevamo una lista unitaria con Dino Ruocco candidato a segretario, il giorno dopo c'erano due liste una di Riccardo Ruocco e una di Dino Ruocco per cui a quel punto voglio dire si giocava in maniera ridicola a fare i furbi e quindi non c'era diciamo l'onestà intellettuale e politica di realizzare realmente quest'accordo. Ma diciamo che c'è una scarsezza, c'è una mediocrità diciamo di carattere politica, si ha ancora una concezione arretrata di organizzazione del partito nel Cilento. Si va avanti, si fa confronto con Renzi abbiamo cambiato un'epoca politica del Partito Democratico e nel Cilento si pensa ancora che esistono i territori, che sui territori esistono degli onorevoli di riferimento che sono l'unica espressione del territorio mentre il partito è espressione del territorio e non si vuole accettare il confronto politico, non si vuole che il partito funzioni, si vuole che il partito locale sia al servizio delle iniziative dei singoli, sia pur onorevoli, legittimati dal voto e con un ruolo politico. torniamo al manifesto, cioè non si può in una crisi politica tutta di centrodestra, tutta di destra, tutta di aloia intervenire come partito democratico senza un'assemblea, fare una riunione nella segreteria politica dell'onorevole Simone Valeante e decidere un comunicato stampa del partito democratico senza convocare né assemblea né direttivo. Tra l'altro, ironia, senza un comunicato ufficiale da chi poteva essere titolato a farlo, cioè dall'onorevole Simone Valeante, ma esce un comunicato del partito democratico, non legittimato, al quale io mi sono stupito, meravigliato. Io ho dichiarato pubblicamente, scritto sulla pagina Facebook del partito democratico di Vallo, che diffidavo chiunque a spacciare una riunione seppur valida, positiva dal punto di vista del confronto, però come un comunicato stampo ufficiale del partito democratico. Mi dispiace che alcuni amici che hanno fatto un percorso con me chiedessero a me che strategia avevo messo in atto. Io non avevo messo nessuna altra strategia se non quella di esprimere sempre liberamente le mie idee. Non capisco qual è la strategia di questi amici che hanno condivido un percorso renziano con me e si trovano imbottigliati in una situazione paradossale. Cioè, noi c'è una crisi dell'amministrazione di centro-destra invece che politicamente di preparare un'alternativa di dichiarare il fallimento di questa amministrazione andiamo in delegazione sempre molto arbitraria a parlare col sindaco Tony Aloia persona rispettabilissima ma di collocazione di destra a trattare per un posto in giunta. Ma stiamo scherzando. Noi le elezioni le abbiamo perse. Agli elettori dobbiamo dire che stiamo costruendo l'opposizione stiamo facendo opposizione e stiamo costruendo l'alternativa. Non possiamo far capire che andiamo a fare inciuci per avere qualche poltrona. Non possiamo a due anni e mezzo dalla fine della consigliatura andare a proporre a una lista di destra con la quale abbiamo perso di fare qualcosa insieme. Cerenzi ha superato pure questo. Berlusconi sta all'opposizione a Vallo della Lucana e dobbiamo continuare con questi inciuci. Cioè, noi abbiamo il segretario cittadino del sindaco Antonello Mainenti che è del Partito Democratico. Cioè, un giorno viene nel Partito Democratico un giorno fa il segretario del sindaco. Ci sono equivocità di fondo gravi. Simone Variante diceva che aveva nel Partito Democratico di Vallo lui aveva portato Attilio Morinario, Pietro Miraldi, Celestino Sansone, Carmelo Ricchio, però alla conta quando questo Partito Democratico di Simone Variante ha deciso di rompere e di chiedere qualcosa il solo Attilio si è sospeso. Gli altri stanno con Tone Aloia, sono monolitici. quindi io penso che per superare bisogna con umiltà ammettere gli errori fatti, capire che il contenitore nel quale si erano inseriti anche in buona fede era un contenitore sbagliato, dare ragione a chi aveva fatto una scelta strettamente politica anche se accusato di averla fatta personale ma il personalismo stava da altre parti e il tempo dà sempre ragione. Il tempo dà sempre ragione. Ok? invece di superare questa cosa capendo ammettendo l'errore ricordiamoci quando Simone Valiante contro il segretario del Partito Democratico quindi non Maurizio Pugliesi ma il candidato segretario nella lista di Romaniello in qualità di segretario del Partito Democratico aveva perso le elezioni non ha avuto neanche la bontà di andare di disparmiarsi di andare in televisione a parlare contro una scelta democratica alla quale lui aveva partecipato e aveva perso in maniera bulgara quindi lui in maniera democratica dovrebbe accodarsi o doveva accodarsi in democrazia alla maggioranza specialmente se questa maggioranza è netta numerosa è cospicua per cui il partito che adesso vogliono rappresentare non è il partito che esiste a ballo il partito esiste e non è d'accordo con quello che stanno facendo quello che stanno facendo è una manovra che non ha niente a che fare col Partito Democratico è una manovra di inciucio è una manovra per pretendere qualcosa di più rispolverando il manuale Cencelli ma siamo proprio al ridicolo dico tra virgolette al ridicolo spero che questi amici riprendano un discorso di dialogo e per poter accettare queste mie critiche penso costruttive disponibilissime a confrontarmi con tutti a farlo per televisione a farlo in maniera davanti a queste telecamere in qualsiasi ambito con tutti con Simone Variante con Riccardo Ruocco con Antonio Bruno con Mario De Luca cioè con chiunque con chiunque sono disponibili in maniera costruttiva per costruire il partito ma non dicano a me o a chi al gruppo di Cilento Democratico che noi siamo contro il buonsenso noi abbiamo troppo buonsenso troppo rispetto delle regole imparassero gli altri a rispettare le regole veniamo e scusami di rubo un attimo con questa convocazione di questa assemblea prima di tutto io ho chiesto che le assemblee i comunicati vengono filmati da chi è titolato non in maniera anonima cioè da Delphi Adisevo e Antonio Bruno ho chiesto la convocazione dell'assemblea l'assemblea in un primo momento era stata convocata presso la segreteria politica dell'onorevole Simone Variante ho detto l'assemblea il partito è una cosa le segreterie politiche dei parlamentari sono un'altra cosa bisogna esprimersi liberamente nei luoghi opportuni dove tutti possano esprimersi liberamente altrimenti la organizzo a casa mia pure con un bel rinfresco invito lei e facciamo l'assemblea del partito democratico se la location non può creare un problema diciamo di correttezza dopodiché si convoca questa assemblea si organizza questa assemblea si fanno i manifesti pubblici rispetto a questa assemblea si dice pure che interverrà l'onorevole Simone Variante interverrà il segretario capisco che Simone Variante è del territorio anche gli annunzi del territorio però però capisco ci fa piacere può darsi che ha dato la disponibilità a lui e altri onorevoli la capozzoli non hanno dato la disponibilità capisco in maniera istituzionale la presenza del segretario politico del partito provinciale perché è garante dell'assemblea dopo tutta questa pubblicizzazione c'è leggo su facebook un trafiletto in cui si dice che l'assemblea è rinviata a data da procrastinarsi per problemi istituzionali e organizzativi chiedo e penso il mio diritto è un diritto di tanti iscritti di chiedere ma quali sono questi motivi istituzionali e organizzativi ci fate chiarezza sul perché perché poi a data da procrastinarsi cioè quando e chi lo deciderà mi viene risposto che l'onorevole Simone Variante ha impegni istituzionali per cui non può partecipare alla riunione per cui quando si libererà o darà l'ok noi faremo questa assemblea allora io rispetto Simone Variante e il suo ruolo istituzionale non vedo cosa ha a che fare con l'assemblea non stiamo facendo un convegno cioè l'assemblea può andare avanti mi sarei aspettato che non poteva venire il segretario provinciale o un suo delegato per legittimare quell'assemblea ma non che si annulla l'assemblea perché Simone Variante non è disponibile in quel momento perché è impegnato per altre situazioni poteva venire un altro onorevole a rappresentare la parte politica più elevata cioè poteva venire gli annunzi poteva venire la capozzoli scegliete voi chiunque a rappresentare il partito se esiste un unico partito questo non è accaduto noi a queste logiche non ci staremo mai non siamo contro nessuno assolutamente ma non possiamo avallare queste logiche sono logiche di 30 anni fa cioè sono logiche ormai superate dai problemi che abbiamo quotidianamente questo paese sta morendo il Cilento sta morendo e ancora facciamo la politica di 10 anni fa la politica clienterale la politica del fatto che il voto di uno valga 10 volte il voto dell'altro un eccellente abbiamo subito per anni questo vassallaggio questo fatto che non tutti gli individui siano uguali di fronte sono uguali quando vanno a votare ma non hanno la stessa dignità politica quando intervengono quando parlano quando esprimono un'opinione c'è il fatto che quando esprimo un'opinione un personaggio vale mille quando le esprima una persona umile tranquilla una cittadina che vive un cittadino che vive sulla sua pelle i problemi del suo territorio non ha la stessa valenza né numerica né di qualità non penso che il Partito Democratico e un partito progressista possa avvallare questo chi sta nel Partito Democratico con queste logiche deve prendere altre strade deve andare da qualche altra parte non può stare nel Partito Democratico e un'opinione